sei pronto? Andrea? Sì? Sono Cruciani da Radio 24, ciao. Ciao. Come stai? Eh, non tanto bene. Eh, beh, so che hai chiesto scusa. Eh, ci mancherebbe. Eh, ma posso sapere una cosa? Io non sono qua a fare il tribunale della, no? Cioè, non è il tribunale questo qua. Per cui la cosa che voglio capire è cosa scatta nella mente di una persona per fare una cosa di questo tipo. Cioè, che cosa è accaduto concretamente? Cioè, quello che è accaduto l'abbiamo visto. Ma che cosa ti è venuto in mente? Cioè, hai detto che eri incazzato per la sconfitta della Fiorentina. Che è successo? Eh, solo quello, solo quello. Solo quello. Non volevo parlare con nessuno, volevo andare alla macchina. Ho sbagliato e chiedo scusa. Vorrei chiedergli scusa anche a lei. Però non la vuoi incontrare? Io la voglio incontrare, se è possibile, quando lei se me vorrà incontrare. Perché se me vuole incontrare io chiedo scusa tranquillamente. No, lei ti vuole denunciare, anzi ti ha già denunciato. Ma secondo te è da denuncio una cosa di questo tipo o no? Io cosa le volevo dire? Cosa le volevo dire? Come guarda in che stato so io. Ho sbagliato. No, ma mi spieghi un attimo che cosa volevi fare in quel momento là. Cosa scatta nella testa di una persona per dare una palpata al sedere a una donna? Ma io dico, ma è incredibile. Mi spiace. Cioè, in quel momento qualcosa ti è venuto in mente? Niente, niente. Non ci stavo manco. Volevo andare solo alla macchina e ho sbagliato. L'altro non posso dire. Va bene, grazie. Però scusami, Andrea. Ma l'aveva già fatto altre volte lei. Però scusami, Andrea. Lei dice, prima quell'uomo si è spuntato sulla mano e poi mi ha dato uno schiaffo sul sedere. Violento che ha fatto male anche fisicamente. Stavo per tussire. Stavo tussendo. Ho fatto così e poi sono passato e ho sbagliato. C'è un raptus praticamente. Salve, salve. No, dico, è stato un raptus. Sono disperato del mio. No, ma io non voglio infierire disperato. Uno deve pure essere consapevole di quello che è successo. Non bisogna essere disperati. Disperati o sbagliato? Beh, anche. Essere disperati. Uno chiede scusa. Va bene, salve. Un attimo che mi stanno chiamando. Aspetta, Andrea, aspetta. Grazie a tutti.